Violenza degli uomini sulle donne. Vi leggo quello che scrivevo alla fine di una prefazione che ho fatto anni fa per un libro. Che gli uomini prendano la parola, si sentano chiamati in causa, si coinvolgano. È ovvio che non sono tutti picchiatori, violentatori, assassini, ma neppure noi donne siamo tutte picchiate, stuprate e assassinate. Però ci sentiamo colpite tutte, ci interroghiamo tutte. L'autosufficienza orgogliosa di chi dice io non centro costeggia pericolosamente il disprezzo e si traduce in fragilità. Una società sana non può prevedere l'indifferenza. Io ho notato da sempre questa cosa assurda. Le donne, anche quelle che appunto, lo ripeto, che non sono mai state abusate, violentate, vittime di picchiatori, minacciate, si sentono e come se si sentono? Parte in causa di questa cosa orribile delle centinaia di assassini, di donne, perché erano donne che hanno detto io con te non ci voglio stare, perché erano donne che hanno cercato di svincolarsi da un uomo violento, perché erano donne che semplicemente volevano vivere. E allora perché gli uomini no? Perché gli uomini hanno paura, hanno paura di essere mischiati, confusi con i picchiatori, con i narcisisti, con i minacciosi minacciatori, con i violenti, con quelli che poi magari diventano anche assassini. E invece no, cari uomini, non fate così, perché se c'è qualcuno che può essere veramente ascoltato, siete voi. Siete voi che potete essere ascoltati da questi uomini che fanno delle cose orribili. Voi potete essere ascoltati molto più delle donne. Avete più credito presso gli altri uomini. E quindi è inutile che parliamo tanto tra noi. Tra noi ci possiamo appoggiare, possiamo creare dei gruppi d'ascolto, possiamo creare un mutuo soccorso, ma il problema, secondo me, può essere risolto soltanto se si coinvolgeranno anche gli uomini. Cioè uomini e donne insieme. Tutti noi contro quello che è veramente oggi inaccettabile. Lo era anche ieri, ma credetemi, oggi veramente ancora di più.